Musica Ultima edizione del nostro telegiornale, bentrovati, un cordiale saluto a voi tutti dalla redazione di Telemolise. In apertura i dati sull'andamento del coronavirus in Molise. Resta al di sotto del 10% il rapporto tra tamponi effettuati e casi di positività. Non ci sono fortunatamente oggi dei decessi, ma ascoltiamo tutti i dati nel servizio di Anna Maria Di Matteo. La buona notizia che arriva dal bollettino dell'ASREM è che finalmente non ci sono nuovi decessi legati al covid. Sono 73 nuovi positivi sugli 841 tamponi processati con un rapporto tamponi positivi dell'8,68%. E poi ci sono anche 54 guariti, 4 dimessi dal reparto di malattie infettive del Cardarelli, 2 nuovi ricoveri e un trasferimento da infettivi in terapia intensiva. Tornando ai positivi, il maggior numero si riscontra a Campobasso con 13 nuovi casi e Termoli con 11. Seguono Sessano con 6, Pietra Abbondante con 5, Venafro con 4. Negli altri comuni si registrano tra 1 e 3 casi. Gli attualmente positivi sono 2.799, gli asintomatici a domicilio 2.669, 66 ricoveri in ospedale, di cui 57 in malattie infettive e 9 in terapia intensiva. I decessi dall'inizio della pandemia sono 172. In totale i tamponi processati sono 98.979, mentre i guariti sono 2.952. Intanto dal monitoraggio settimanale arrivano notizie incoraggiande. L'intice reticolo che indica la contagiosità è sceso da 1,45 a 1,18. E sono in arrivo in Molise 9.294 dosi di vaccino, lo ha detto Toma in Consiglio regionale. La campagna vaccinale al Via il 6 gennaio. Ascoltiamo tutto nel servizio di Tonino Danese. Nella prima fase della campagna vaccinale al Molise saranno assegnate 11.000 dosi e ne arriveranno in regione 9.294. Lo ha comunicato in Consiglio regionale il governatore Toma, spiegando che il tutto è stato stabilito sulla base della ripartizione svolta a livello centrale, considerando la percentuale delle persone che effettivamente accetteranno di vaccinarsi secondo le priorità definite, cioè sanitari e persone fragili. Come si sa, le strutture per la conservazione sono a Campobasso e Isernia. E Toma ha dichiarato in aula che le varie dosi dovrebbero arrivare in Molise tra il 25 e il 31 dicembre. Prima, infatti, ha continuato, si prevede il 21 dicembre, l'Agenzia Europea per il Farmaco, EMA, dovrebbe validare il vaccino messo a punto dalla Pfizer. Autorizzazione a cui dovrebbe fare seguito in pochi giorni la validazione dell'omologa agenzia italiana, l'AIFA. Acquisiti necessari via libera, ha aggiunto Toma, potrà iniziare la distribuzione sul territorio nazionale delle dosi. Dal 6 gennaio è previsto l'inizio della prima fase della campagna vaccinale anche in Molise, con una prima somministrazione ai soggetti individuati, alla quale ne dovrà seguire una seconda entro 19-23 giorni per rendere completamente efficace la vaccinazione. Toma ha infine evidenziato che per gestire al meglio le varie fasi bisognerà avvalersi anche di volontari, non solo medici e infermieri, ma pure personale amministrativo e verranno coinvolti i sindaci. Sui luoghi dove verranno effettuati i vaccini si sta ragionando, considerando i centri maggiori e la distribuzione di essi sul territorio per garantire il raggiungimento ottimale e la sicurezza. Le organizzazioni sindacali continuano a manifestare il proprio dissenso contro la gestione sanitaria in Molise, soprattutto in questo momento di pandemia dopo gli ospedali di Termoli, Campobasso e Isernia, questa mattina si sono ritrovate davanti al Vietri di Larino, ribadita la carenza di personale sanitario in ambito regionale e la necessità di nuove assunzioni, evidenziati ancora una volta i turni massagranti degli operatori. Pongono l'attenzione anche sulla sicurezza delle modalità di assistenza ai pazienti, chiesto anche il potenziamento del Vietri. Queste proteste sono conseguenti alla proclamazione dello stato di agitazione di tutto il personale sanitario che rimane permanente. In Consiglio regionale sono passate due mozioni sempre in ambito sanitario, la prima che punta al rafforzamento del personale medico e paramedico, l'altra che punta a rafforzare la medicina sul territorio, le ex guardie mediche. Sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni Angelo Primiani del Movimento 5 Stelle che ha presentato entrambe le mozioni approvate da maggioranza e opposizione. Intesa tra maggioranza e opposizione in Consiglio regionale, nell'ultima riunione sono state approvate all'unanimità dall'Assemblea due mozioni presentate dal Movimento 5 Stelle, entrambe riferite al mondo della sanità. La prima, come ha spiegato ai nostri microfoni il consigliere Angelo Primiani, punta a risolvere il problema della carenza di personale medico e paramedico presso le strutture sanitarie della Regione Molise. Sì, ieri in Consiglio regionale è arrivata in discussione una nostra mozione sul potenziamento del personale medico datata dicembre 2019. Quindi in una fase preliminare precedente alla pandemia chiedevamo di potenziare il personale medico. Lo chiedevamo anche alla luce del fatto che in questa regione, a causa del commissariamento della sanità, venivamo fuori da dieci anni di blocco del turnover. Blocco del turnover che ha impedito all'azienda sanitaria di assumere nuovo personale medico. Quindi ci sembrava opportuno e urgente, già a dicembre 2019, provvedere ad aumentare le assunzioni soprattutto del personale medico, mi riferisco agli anestesisti, ma anche dei primari, perché ad oggi, tuttora, numerosi reparti sono ancora sprovvisti dei primari, quindi sono ancora sprovvisti dei ruoli apicali. Questo lo facevamo a dicembre, purtroppo la mozione è arrivata in discussione solo ieri. È stata approvata, questa è la magra consolazione, è stata approvata all'unanimità. Ora l'auspicio è che il presidente Toma dia seguito all'impegno, all'indirizzo politico che ha ricevuto dal Consiglio regionale. La seconda mozione invece punta a rafforzare la medicina territoriale, intervenendo sul potenziamento delle ex strutture di guardia medica, diventate ora servizi di continuità assistenziale. La pandemia, diciamo, che ha portato tanti nodi al pettine. Anche questa è datata a dicembre 2019 e anche in questa mozione chiedevamo di potenziare la rete territoriale. Oggi è sotto gli occhi di tutti che, potenziando la rete territoriale, si potrebbero evitare numerose ospedalizzazioni, si potrebbe curare sul territorio tanti cittadini, evitando che poi questi finiscano negli ospedali. Era quello che chiedevamo a dicembre 2019. Lo chiedevamo attraverso il potenziamento delle guardie mediche, mettendo nelle condizioni le guardie mediche di poter operare sul territorio, quindi dotandole di locali adeguati, ma soprattutto implementando il tanto famoso, il tanto sbandierato sistema di telemedicina. Pensate che già all'epoca noi chiedevamo di dotare le guardie mediche di dispositivi in grado di tracciare e misurare tutta una serie di parametri vitali nei pazienti. Oggi, questo in piena pandemia, risulta vitale. Anche questa mozione è stata approvata all'unanimità e c'è da dire, meglio tardi che mai, anche qui l'auspicio è che il Presidente Toma dia seguito all'indirizzo del Consiglio regionale. Alcuni cittadini organizzati in rete chiedono le dimissioni del Presidente della Regione Toma, con loro Andrea Di Paolo e Dilma Baldassarre, alcune decine di manifestanti, tra i quali era presente anche un rappresentante del Comitato dei Familiari delle Vittime da Covid in Molise, hanno contestato il Governatore ieri davanti alla sede della Giunta regionale. Puntano il dito contro la gestione dell'emergenza sanitaria e sostengono che sia in ritardo su tutto, senza un centro Covid, provvedimenti sterili per i trasporti e le scuole con 170 morti, avuti quasi tutti con la seconda ondata della pandemia. Didattica a distanze, scuole chiuse a Mafalda, il Sindaco Giacomo Matassa, dato il rischio di un possibile sviluppo di nuovi contagi sul territorio comunale, ha disposto la chiusura del plesso scolastico di Mafalda, con sospensione delle attività didattiche in presenza da oggi, 17 dicembre, fino al 6 gennaio 2021. 50 milioni per 5 anni. Si tratta dell'appalto per la manutenzione di ospedali e strutture sanitarie della regione, affidato dall'ASREM alla multinazionale francese Siram Veolia. Chiaramente tutte le ditte molisane che fino ad oggi garantivano i servizi di manutenzione sono fuori, un danno abbastanza pesante per l'economia regionale. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Nuovo appalto per la manutenzione di ospedali, ambulatori e consultori della sanità pubblica molisana. Circa 50 milioni per 5 anni, che per la prima volta vanno fuori dal Molise, tagliando fuori diverse ditte locali di Campobasso, Isegne e Termoli, che vivevano di questo lavoro. L'appalto è stato aggiudicato dalla Consip alla francese Siram Veolia. Tutto è stato deciso a livelli romani, dove la centrale unica di committenza della Consip gestisce gli appalti per le aziende pubbliche. Il provvedimento estromette, a partire dal prossimo 21 dicembre, una decina di aziende del Molise, che lo hanno saputo meno di una settimana fa. La vicenda parte dal 2018, quando scadono i termini della procedura aperta per l'affidamento della gestione integrata e manutenzione delle strutture edili e degli impianti tecnologici ubicati presso i presidi ospedalieri e i poliambulatori dell'azienda sanitaria regionale del Molise, bandita dalla centrale unica di committenza. Varie le ditte, locali e non, che parteciparono al bando, che tuttavia si bloccò e non arrivò mai ad essere assegnato nelle more l'ASREM, ha proceduto in proroga con le varie imprese molisane che si sono occupate della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere civili e degli impianti tecnologici di ospedali e poliambulatori. Florenzano riprende in mano la questione, la sblocca e fa ripartire la procedura perché, come si legge nella sua delibera, è necessario provvedere all'adesione alle convenzioni in essere delle centrali regionali e nazionali di acquisto per l'erogazione di una serie di forniture e servizi tra cui anche quelli di manutenzione ospedaliera. Non solo è fatto obbligo, si legge sempre nel documento del Direttore Generale, agli enti del Servizio Sanitario Nazionale di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.a., mentre la mancata adesione alle stesse e la conseguente emissione di ordini di fornitura a prezzi maggiori comporta danno erariale direttamente imputabile al responsabile. Insomma, Florenzano non poteva fare altrimenti. Ora l'unica speranza di difendere il proprio posto di lavoro per le decine e decine di dipendenti delle ditte molisane che curavano la manutenzione è quella che il nuovo gestore applichi la continuità mantenendoli in vita grazie anche all'esperienza maturata. Ma qui tocca ai sindacati darsi da fare e farsi ascoltare. Incidente in autostrada fra Termoli e Campomarino. Una Ford Focus è finita contro il guardrail dopo che il conducente ha perso il controllo per cause al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Vasto Sud. Nell'abitacolo c'erano quattro persone ma solo una è rimasta ferita. si tratta di una donna trasportata dal 118 o in misericordia al pronto soccorso dell'ospedale Santimotio per lesioni a ombraccio e traumi al torace. Percepivano senza averne i requisiti il reddito di cittadinanza 10 persone di Pietracatella scovate dalla Guardia di Finanza di Larino. Intanto l'Inps ha attivato la procedura di recupero delle somme per un totale di circa 100.000 euro. Ascoltiamo Andrea Nasillo. 10 persone di Pietracatella hanno percepito senza requisiti il reddito di cittadinanza. Tra loro anche un imprenditore che nonostante i 49.000 euro di reddito di impresa aveva dichiarato all'Inps un importo pari a zero. Sono stati scoperti e denunciati dai finanzieri di Larino. Tutti gli indagati pur di ottenere il beneficio previsto dal governo Conte hanno certificato stando alla ricostruzione degli investigatori qualità proprie o dei familiari false. La maggior parte ha omesso di dichiarare patrimoni immobiliari e redditi che non avrebbero permesso di ottenere il contributo assistenziale. Durante l'indagine di Polizia Giudiziaria ed Economico Finanziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Larino e portata a termine dalla locale tenenza della Guardia di Finanza numerosi sono stati gli appostamenti e i sopralluoghi che hanno permesso di raccogliere elementi utili all'inchiesta. Il contributo finora incassato è stato sospeso e ora l'Inps ha attivato le procedure di recupero delle somme percepite illecitamente per un totale di circa 100.000 euro. L'indebito accesso a benefici assistenziali affermano dal Comando delle Fiamme Gialle da parte di chi non ne avrebbe titolo aggrava l'iniquità sociale e genera un danno per le casse pubbliche ancora di più nell'attuale quadro economico in tempi di Covid-19. Il premio San Giorgio conferito dal Centro Studi Molisano ad una persona che in qualche modo abbia a che fare con il Molise la quale si è particolarmente distinta in uno o più dei diversi campi della conoscenza umana quest'anno è stato conferito all'unanimità Francesca Colavita ricercatrice biologa dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma per l'impegno profuso nel campo delle malattie infettive e segnatamente nell'attività di ricerca sul Covid la cerimonia di consegna del premio si svolgerà a gennaio. E adesso vi facciamo vedere invece come la città da dove è partita la diffusione del coronavirus Wuhan in Cina è tornata alla normalità dopo aver fermato la pandemia Enzo Luongo ha raccolto la testimonianza di Lucia Tartaglia Molisana che vive proprio a Wuhan Ascoltiamo il servizio Questa è Wuhan oggi la città da dove tutto è partito adesso è praticamente tornata alla normalità le immagini che vedete sono state girate da Lucia Tartaglia Molisana di Frosolone che da tempo vive nella città cinese a Telemolise racconta delle misure severissime adottate dalle autorità locali nei mesi passati qui praticamente le cose diciamo che sono tornate quasi alla normalità tutto questo grazie al fatto che c'è stata una forte politica di controllo già dall'inizio nel senso che abbiamo fatto una quarantena vera nel senso che eravamo chiusi nel palazzo ma veramente chiusi con la chiave non potevamo uscire assolutamente per fare nulla per fare la spesa eccetera e quindi da qualche mese a questa parte diciamo da maggio ormai più di sei mesi la situazione è nettamente migliorata a Wuhan però le mascherine non sono sparite del tutto e le misure di contrasto alla diffusione del virus attive sono ancora molte compresa un'app come la nostra Immuni ma a differenza dell'Italia in Cina è su tutti i telefoni la gente porta le mascherine c'è sempre il controllo del cellulare quindi abbiamo un'app che è simile all'app Immuni che ti dice i posti in cui sei stato a che ora quando con chi eccetera eccetera e quindi senza quest'app non puoi prendere il treno non puoi girare eccetera eccetera quindi tutti tutti ce l'hanno in secondo luogo a maggio avevano trovato ancora alcuni casi quindi la città il governo centrale ha deciso di fare un test per tutti i cittadini di Wuhan compresi gli stranieri infatti anche io ho fatto il test e quindi la situazione è molto molto migliorata però la Cina ovviamente applica un controllo assoluto nel senso che appena trovano un caso che sia sintomatico sintomatico cosa fanno tracciano tutti i contatti e mettono in quarantena forzata tutti o a casa quarantena controllata oppure in ospedale in ospedale soprattutto se si hanno dei sintomi le misure di controllo racconta ancora Lucia da Wuhan sono severissime anche per chi arriva dall'estero tornare in Cina non è facile venire in Cina non è facile perché? perché devi seguire una serie di pratiche burocratiche e inoltre devi fare la quarantena obbligatoria in un hotel scelto dal governo cinese a tue spese ovviamente e quindi dopo quarantena obbligatoria in un hotel devi fare il test almeno due o tre volte e solo allora puoi puoi entrare liberamente nel paese quindi non è che c'è libertà di viaggiare poi un'altra cosa è che nelle città dove ci sono dove sono presenti alcuni casi non si può andare liberamente oppure le persone che vengono da quella città sono controllate nel senso che sono costrette al ritorno a farsi la quarantena a casa di due settimane quarantena ovviamente controllata dal distretto locale a sostampa molise ordine dei giornalisti hanno scritto al governatore toma riguardo lo stanziamento ultimo di 800 mila euro per l'editoria locale in questo difficile momento hanno detto i rispettivi presidenti Giuseppe Di Pietro e Vincenzo Cimino un ulteriore sostegno ad un comparto delicato per la convivenza democratica è benvenuto è molto utile e per questo il ringraziamento alla giunta nel contempo hanno aggiunto sarebbe stato opportuno e utile un confronto sulla materia anche per la completa utilizzazione della somma oggi non fattibile prevedendo ad esempio un prestito alle aziende per l'emersione del lavoro nero e irregolare di qui la disponibilità di assostampe ordine dei giornalisti a un incontro per mettere a punto eventuali correttivi e integrazioni al provvedimento in consiglio regionale è stata approvata ieri con 10 voti a favore e 9 contrari una mozione del partito democratico che prevede la riduzione dei canoni tratturali il governo toma va sotto a votare con le opposizioni anche l'ex governatore Iorio ascoltiamo l'intervista che ci ha rilasciato Michela Fanelli Michela Fanelli un successo per le opposizioni in consiglio regionale un successo al quale anche un pezzo di maggioranza di centrodestra si è allineato quello della riduzione dei canoni tratturali una battaglia che viene da lontano sì da quest'estate ricorderete c'era stata una mazzata in particolare per i pastori gli imprenditori agricoli ma anche chi ha case parzialmente su il demanio tratturale con un aumento davvero esagerato dei canoni con una forte protesta di chi evidentemente aveva visto aumentare questo esborso che noi avevamo raccolto anche perché il momento non è quello che oggi vede una regione vessare ulteriormente sui cittadini sulle imprese in un momento di pandemia quando tutto è complicato con una mano si elargiscono fondi e con l'altra poi si aumentano le tasse sulle aziende evidentemente c'è qualcosa che non va oggi il consiglio regionale è stato attento a questa esigenza chiede all'aggiunta di revocare la delibera del 2019 e di ridurre completamente l'aumento o farne uno piccolo piccolo questo è importante lo diciamo perché è una grande sensibilità del consiglio che aiuta soprattutto fasce di popolazione e in questo momento che hanno i problemi per chiudere il mese con quel poco che oggi molte attività hanno bene quindi una mozione che però ha anche un significato politico sì assolutamente Toma continua a non avere in mano la leadership la maggioranza e l'aggiunta oggi ancora una volta è andata sotto è chiaro che c'è sempre un rumore di fondo con questo dissenso che non è costruito su una condivisione né con gli stessi membri di maggioranza né con il territorio e il partenariato a fronte a fronte di qualche firma formale di partenariato si registra che imprese e datori di lavoro ormai hanno preso le distanze su questo provvedimento a dire la verità c'era stata una concertazione formale davvero secondo me che non rincorriva le esigenze reali del territorio ma oggi abbiamo visto come la porta dal partenariato due volte è stata chiusa in faccia a Toma e si dice non bussare più al campanello talmente tanto se è lontano dalla concertazione reale per esempio il nuovo bando per gli aiuti alle imprese su quello non si è avuta nessuna forma di confronto viceversa poi molto spesso vengono chiamati a dire sì alle sedi formali come il comitato di sorveglianza ecco si è rotto fortemente quel legame di afflato se mai ci fosse stato che doveva regolare il rapporto tra esecutivo e forze sociali e in aula è passato anche un ordine del giorno presentato e illustrato dalla consigliera Aida Romagnuolo per l'istituzione di un albo regionale delle manifestazioni storiche culturali folcloristiche e dei presepi del Molise poiché queste manifestazioni che si svolgono sul territorio regionale rappresentano parte della nostra storia e della nostra identità ha detto Romagnuolo si impegna a Toma e l'assessore Cotugno a istituire un albo regionale per tutelare e promuovere le nostre tradizioni il nostro territorio la nostra storia e la nostra identità un nuovo vicario per la questura di Isernia si è insediata Rosa De Gregorio il dirigente ha partecipato alla presentazione del calendario 2021 della Polizia di Stato per noi c'era Barbara Fino si è insediato la questura di Isernia il primo dirigente il vicario Rosa De Gregorio che ha preso il posto della dottoressa Carmela Luca la dottoressa De Gregorio proviene dalla città di Palermo dove è diretto prima la Polizia di Frontiera Aerea poi la sezione di Polizia Stradale e da febbraio 2020 l'ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura il nuovo vicario era presente all'incontro in Questura per presentare il calendario della Polizia di Stato 2021 il cui ricavato sarà devoluto all'Unicef a sostegno dei ragazzi più colpiti dall'emergenza coronavirus nei 12 scatti scelti per rappresentare i mesi del nuovo anno ci sono le parole chiave della legge del primo aprile 1981 che ha ridisegnato l'amministrazione della pubblica sicurezza e rifondato la Polizia di Stato tra queste in particolare identità nei valori costituzionali per la tutela delle libertà e dei diritti prossimità al servizio del Paese e dei cittadini ordine e soccorso pubblico autorità di pubblica sicurezza coordinamento e formazione e donne per la prima volta in una forza armata all'incontro hanno partecipato il capo di gabinetto Maria Zoccolillo e il questore Luciano Soricelli che ha sottolineato come esista un rapporto collaborativo con le forze di polizia un senso civico bilaterale espresso proprio attraverso le immagini del calendario c'è la vicinanza nei confronti della comunità dove si va a operare questo è stato ribadito più volte dal nostro capo della polizia e nella questura di Sernia in questa comunità questo principio viene portato avanti quotidianamente la nostra è un'attività ovviamente di prevenzione di repressione quando c'è bisogno ma fondamentalmente è quello di vicinanza ai bisogni delle persone e noi lo stiamo facendo quotidianamente soprattutto in questo periodo particolare bene si chiude qui l'ultima edizione del nostro telegiornale l'appuntamento è per domani mattina con la prima edizione e con la nostra rassegna stampa a voi tutti buonanotte grazie a tutti Grazie.